Miau! Miau! Papà! Il divano! Che cosa sta succedendo? Miau! Oh, è tornato Sean. Mamma, lui non vuole ascoltarmi. Oh, davvero? Sean, seduto. Wow! Bravo, Sean. Si può sapere come hai fatto? Restando calma e controllata. È una creatura semplice in realtà, tesoro. Miau! Sean! Non avresti dovuto farlo, Sean? Sean, il tuo è un comportamento davvero inaccettabile. Wow, è un emu che non si fa a domesticare. Sapete cosa serve a questo emu? Cosa? Sì, che cosa serve? Una passeggiata. Sì! Passeggiata! È un colpo basso. Ricorda, Bluey, calma e controllata. Calma e controllata, capito? Ah! Oh, cielo. Ah, Sean! Fermo! No! Sean, no! Guarda che pasticcio! Ma non sta andando affatto bene. Io direi di tornare subito a casa. No, io posso farcela. Sean, il tuo è un comportamento inaccettabile. Ti è chiaro il concetto? Ha ascoltato! Bravissimo, Sean. Adesso va meglio. Ehi, Bandit, come butta? Sean! Lascialo stare! Sean! Sean! Lascia stare in spavolari! Ma! Ma! È tornato Sean! Oh, no! Oh, torna qui! Stai seguendo quell'imbi spianco! Ehi, bandit, come butta qui! 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 Ehi, bandit, come butta qui!